Questa è la parte più importante della stagione per me e per tutti, quindi adesso è fine campionato, si entra nel vivo delle competizioni, della Coppa, della Conference e del campionato, quindi è adesso che bisogna fare del nostro meglio. Sicuramente sento la responsabilità in questa squadra e questo mi piace, ma allo stesso tempo penso che tutti si devono sentire responsabili e leader di un gruppo. Sicuramente penso che questo gruppo non ha ancora espresso tutto quello che ha, penso che ci sono dei giocatori giovani che possono ancora crescere, stanno facendo esperienza e possono ancora dare tanto per questa maglia. Sicuramente penso che in linea generale bisogna cercare di trattenere i nostri giovani più forti e cercare di aggiungere qualche giocatore, però questo è un processo che di solito dura anni, ci vuole tempo, però penso che questa squadra può fare ancora meglio di quello che ha fatto fino adesso. Quando si va fuori casa in questi stadi troviamo sempre un ambiente difficile, con un tifo e una squadra che sempre fa il massimo, quindi dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in Turchia, quello che abbiamo fatto in Polonia, ovvero stare calmi, tranquilli, pensare al nostro gioco, stare concentrati solo e esclusivamente su quello, indipendentemente da quello che succede fuori, sugli spalti e pensare solo al campo. Sicuramente a livello europeo il modo di difendere di alcune squadre è diverso rispetto alle difese italiane e in qualche occasione siamo riusciti ad approfittarne e a fare tanti gol, speriamo di fare lo stesso anche domani. Penso che l'Inter è una squadra forte, ha una rosa di livello assoluto, sia chi gioca sia chi sta in panchina, è una squadra più forte di noi sicuramente, però quando sarà il momento la prepareremo, cercheremo di fare quello che è, di fare del nostro meglio per mettere in difficoltà. già in campionato abbiamo giocato contro l'Inter due volte, li conosciamo, li vediamo tutto l'anno, quindi prepareremo la partita quando sarà il momento di prepararla. Adesso sicuramente siamo concentrati su quella di domani, che è la più importante della stagione.